al debutto sulla sabbia roberto pampasosa un grandissimo campione amatissimo campione ha sorpreso tutti è stato veramente straordinario si va bene mi sono divertito diciamo è stata ed è ancora una bella esperienza oggi giochiamo ancora contro la germania importante divertirsi anche se quando sei dentro il campo vuoi vincere e magari ti viene fuori anche qualche parolaccia qualcosa proprio dal nostro passato agonistico quindi l'importanza è divertirsi e regalare un bello spettacolo a tutta la gente che è venuto Silvi a vedere questo beach soccer che è veramente molto bello senti di testa ce l'aspettavamo che fossi padrone dell'area di rigore però sei stato rapido veloce nelle girate nelle conclusioni come ti sei trovato sì non me lo aspettavo neanch'io devo dire la verità però una volta lì quando vedi che gli altri cercano di farlo provi anche tu e diciamo che qualche movimento mi è rimasto al di là che gli anni sono passati non è che facevo gol sul rovesciato quando giocavo però mi è capitato di fare questa semi rovesciata è riuscita è venuta bene mi sono divertito e sorpreso anch'io questa è la verità e degli italiani chi ti ha sorpreso un po' me l'aspettavo perché la fine di Livio del vecchio i due del vecchio a dire la verità si sono mossi bene Marco un probabilmente più agile di tutti anche perché era un attaccante con quei movimenti ha fatto dei gol di rapina diciamo così e quindi da lui me lo aspettavo ha confermato la regola bene Buccalupo ci rivedremo magari ci riprovi e ci regali ancora qualche gol sì perché no perché no perché veramente mi sono divertito ho trovato un bel ambiente un bel pubblico una bella organizzazione sul mare poi tra l'altro quindi veramente sono stato benissimo